Cosa deve fare il Teramo per mettersi alle spalle definitivamente le ultime due annate un po' complicate? Ma guarda, qui tocca un tasto un po' dolente, quindi io vorrei il Teramo che stesse in Serie A, quindi per me il Teramo è il Teramo. Non lo so, bisognerebbe fare tante cose, io un'idea mia ce l'ho però preferisco tenerla per me perché ci vogliono diverse situazioni, ci vogliono uomini seri, uomini importanti, ci vuole gente competente, quindi loro lo sanno, sicuramente lo sapranno in società, però come la vedo io ci vuole gente importante, gente che ama il Teramo veramente. Tu torneresti a Teramo? Ma io tornerai però penso che non sarei gradito, non dai tifosi, tifosi sì tutta la vita, però penso non sarei, non sono una figura vista bene perché c'è troppo amore che hanno i tifosi per me, viene messo in cattiva luce nella società, nei giocatori, poi c'è sempre i paragoni, infatti nelle contestazioni i tifosi ci sono dovuti presenti sempre da sto ragazzo che è all'ottava, quindi passo come una persona che non sono io e io non sono stato mai in un leccaculo né niente, quindi preferisco stare a casa. Cosa aveva il Teramo di Giuseppe? Magari questo Teramo adesso non ha. Poi ci vogliono tre trasmissioni, quindi andiamo un po' lunghi, ma non aveva niente, aveva il lavoro che però poi adesso sembra riduttivo nei confronti ed è effettivamente sbagliato anche metterla così, perché io so che anche chi c'è stato dopo di me ha lavorato e ha provato a lavorare. Io posso dire cosa aveva quel Teramo che è stato qualcosa di magico, però anche lì parleremo solo dell'ultimo anno ma così non è, perché comunque si è vinto sempre, vuol dire aver lavorato veramente bene e soprattutto sempre costruendo qualcosa anno dopo anno per quel che riguardava il futuro. Secondo me alla fine il trucco è proprio quello, non è solo vincere, quando si vince e uno si rende conto che sta costruendo anche per il futuro qualcosa di buono, lì si riesce a fare l'opera d'arte. Nel bene e nel male, perché poi c'è stato anche del male purtroppo, ma soprattutto nel bene questo è successo in quei quattro anni. Da ex capitano, giocatore, direttore generale del Teramo, ovviamente ti devo chiedere un parere sulle ultime due stagioni della Teramo Calcio, molto difficili, cosa dovrebbe fare adesso il Teramo secondo te per mettersi definitivamente alle spalle queste due annate complicate? Sono state due annate sicuramente difficili, inutile negarlo, perché i risultati dicono questo. Ci sono dei problemi quando avvengono queste cose, perché logicamente quando si sbaglia per due o tre anni vuol dire che in ogni caso qualcosa è da rifare, sicuramente, io dico sempre che alla base di qualsiasi risultato sportivo c'è sempre una componente societaria importante, quindi a mio modo di vedere il presidente Campitelli dovrà essere bravo nel ricostruire quello che riguarda un organigramma societario, mettendo delle persone che lui reputa idonee, dandogli le responsabilità che meritano, perché secondo me se ci sono dei ruoli, perché ci sono delle responsabilità, e poi voglio dire, secondo me il Teramo potrà fare sempre bene, perché penso che anche il prossimo anno se le cose vengono fatte in un certo modo il Teramo si possa ritagliare sempre un spazio importante nel panorama Lega Pro.